buon pomeriggio dal parco morea qui è andrea ruocco e eccomi qua francesco caliendo salve siamo qui in diretta dal parco morea e abbiamo appena ultimato gli ultimi appuntamenti prima di andare in vacanza diciamo che a quel momento sospendiamo gli appuntamenti da oggi fino al 30 di agosto dal primo settembre potremmo ricominciare le visite però questo non esclude che ci potete contattare tramite facebook tramite whatsapp siamo comunque reperibili vero francesco certo è il sito www.parcomorea.it niente voi come come siete organizzati per queste vacanze c'è qualcuno che è già in vacanza ora sentiremo alcuni messaggi che sta lavorando comunque auguriamo a tutti una bellissima estate ciao dal parco morea a tutti ciao ciao ciao